Le feste sono un momento propizio per vivere in comunione con Dio e i fratelli in uno spirito di serenità e di gioia. Le feste dei Santi non possono considerarsi solo espressione di devozione, ma un'occasione per considerare la vita del Santo come modello da imitare. Il Concilio Vaticano II, confermando l'obbligo stabilito da diritto crononico, ha ribadito la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. In questo giorno infatti i fratelli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla Eucaristia. Di conseguenza la festa non è evadere dalla realtà della vita, ma riscoprire un autentico rapporto con Dio nella liturgia e nello stare insieme ai fratelli in uno spirito di serena gioia. A riguardo è bene compiere un cammino di fede nel considerare la festa non solo come un fatto devozionale per il grazie ricevuto o da ricevere, ma per riscoprire la testimonianza di vita del Santo con l'apertura alla grazia da accogliere. In molte comunità, anzi, che mettere l'accento su un cammino spirituale per esprimere la speranza e l'amore? In una epifania di Dio ci si impegna nella raccolta di denaro per invitare il tale cantante o giovane o signorina che non hanno nulla a che vedere con la festa religiosa. La tradizione cattolica, canonica, meglio, distingue un festum cori, festa di chiesa, e un festum fori, festa di piazza. Purtroppo oggi la festa religiosa e la festa civile si confondono e non sempre risalta il significato intimo volute da Dio nella libertà gioiosa da ogni legame prettamente terreno. Le feste religiose e le feste civile si confondono travisando il significato intimo di una autentica gioia. Spesso sono un insulto alla povertà della gente e alle volte alla stessa chiesa con spettacoli, equivoci e blasfemi. Il precetto del riposo festivo mette la vita dell'uomo al di sopra di tutti gli interessi terreni. L'azione di Dio parte dalla conoscenza del peso del lavoro quotidiano, dall'ingordiggia del guadagno, della preoccupazione smoderata per il cibo e il vestito. Tutte situazioni pericolose per l'uomo perché espongono al pericolo la stessa salute fisica. Di qui il sapiente precetto del riposo festivo che mette la vita al di sopra di tutti gli interessi terreni. Con il riposo festivo si dà il culto a Dio in quanto noi rispettiamo il don della salute della vita, frutto della sua sapienza e del suo amore. Come sul piano soprannaturale è volontà di Dio che siamo santi, così sul piano naturale è volontà di Dio che siamo sani. Oltre a questo è un'esigenza del riposo festivo, santificare il sabato significa riservarlo a Dio perché egli possa entrare nella vita della persona, della famiglia e della comunità. Il sabato diviene così il giorno della liberazione della schiavitù, della fatica quotidiana. Il Deuteronomio dice ricordati che sei stato schiavo nel paese dell'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno festivo.